Poco fa, era la fine di maggio, il leader della Lega Matteo Salvini ha espulso il consigliere regionale ed ex assessore a Patova. La sua colpa è stata quella di avere sostenuto a Mestrino, un comune piccolo di circa 10.000 anime, il suo ex vice sindaco e non il candidato del partito. A luglio Salvini ha espulso Paolo Grimoldi, storico militante della Lega, colpevole di avere criticato la linea del segretario e avere chiesto a gran voce i congressi. Erano invece tre i consiglieri regionali espulsi in Lombardia a fine 2022. Il consiglio dei saggi della Lega, ai tempi composto da Calderoli, Giorgetti, Bosatra e Centemero, parlò addirittura di tradimento. A marzo di quest'anno è stato espulso l'ex segretario regionale della Liga, ex sindaco di Vittorio Veneto e al tempo europarlamentare Gian Antonio D'Aree. Aveva contestato le scelte di Salvini sulle candidature alle elezioni europee, in primis il generale Roberto Vannacci. A casa. A giugno Salvini ha espulso il consigliere regionale veneto Gabriele Michieletto, accusato di polemiche strumentali, inutili e dannose contro la Lega. Erano gli stessi giorni in cui il fondatore del partito Umberto Bossi aveva annunciato che alle elezioni europee avrebbe votato Forza Italia. Bossi non è stato espulso, ovviamente. In questi giorni l'europarlamentare Roberto Vannacci ha annunciato di avere fondato il suo movimento politico. I suoi accogliti dicono che potrebbe anche diventare un partito. Chissà. Si chiama Noi con Vannacci, così simile a quel Noi con Salvini. Ovviamente tutto accade senza congressi, senza nulla. Vannacci l'ha fatta più grossa degli espulsi, ma Salvini tace e mansueto. Il capitano in certe occasioni diventa mozzo.